buongiorno ragazzi nuovo vlog come al solito la situation qui ve la faccio vedere notare 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 ormai abbiamo abituato i gattoni e voi siete complici in questo ragazzi i gattoni adesso prima cosa che faccio quando apro la porta della camera la mattina si fiondano tranquillamente sul lettone gattastellina buongiorno gattastellina buongiorno gattastellina lei piace stare lì ai piedi del letto e gatto denver si sparanzola un po dove vuole diciamo amore mio amore mio si 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 bravissimo si bravissimo anche tu anche tu che fai tutti i pru pru sei bravissima anche tu anche tu ragazzi quanto mi piace fare il primo pezzetto del vlog filmarlo qui a letto è bellissimo sono super comoda super calda al calduccio e posso chiacchierare con voi allora anche oggi ho diverse cosine da fare in centro e poi devo prenotare i biglietti per domani per milano perché domani appunto sarò a milano sarò a milano in giornata quindi toccata e fuga come al solito quando sono a milano non ho mai tempo di fare nulla ho provato a contattare chiara ma non è a milano lei domani quindi purtroppo non riusciamo a vederci ma in ogni caso avrei avuto così poco tempo che forse meglio così forse meglio se rimandiamo quando riusciremo effettivamente a chiacchierare un po con calma perché altrimenti ogni volta che ci vediamo è tutto super 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 di fretta e il fatto è che andare a milano in giornata sono 4 ore 40 di viaggio all'andata con il treno diretto e poi un pochino di più al ritorno con un cambio perché diretto l'ultimo diretto sale 5 qualcosa da milano centrale terrestre centrale quindi un pochino troppo presto e poi non c'è più un diretto quindi farla in giornata sono praticamente otto ore diciamo nove ore di treno andata e ritorno quando faccio in giornata quando appunto ci vado in giornata non ho mai tanto tempo per fermarmi quindi che stavolta sarà toccata e fuga e poi ritorno a casa ma preferisco sempre rientrare a casa piuttosto che fermarmi a dormire lì non so come mai ma preferisco vabbè ovviamente preferisco stare a casuccia mia e quindi mi piace anche se un po più stancante ma preferisco andarci in giornata e poi rientrare e poter dormire a casa mia della serie anche perché quando stai spesso negli hotel dopo un po ti stufi e preferisci stare a casa tua adesso mi alzerò ragazzi tra un po viene qua mio papà quindi pranzeremo insieme fame zero perché mi sveglio sempre tardi quindi poi non ho fame ma mangeremo qualcosina ah gattastellina sta arrivando gattastellina si gattastellina si lo so gattastellina adesso devo alzarmi non posso più stare qua con voi a procrastinare gattastellina che faccia che faccia gattastellina dove vai dove vai ah ok e saluta grazie gattastellina il sedere in faccia per lei è massima espressione di amore e di affetto sento skin care ragazzi adesso laveremo il viso e poi voglio fare una maschera per il viso con foreo ufo non faccio mai le maschere per il viso perché sono sempre troppo pigra non mi va di aspettare 40 minuti mezz'ora un quarto d'ora 20 minuti per tenerla addosso quindi alla fine finisco per non fare mai le maschere viso le uniche che faccio davvero sono quelle con foreo ufo eccolo qua questo è ufo sicuramente già lo conoscete perché l'ho già utilizzato diverse volte nei video ed è appunto l'unico dispositivo per le maschere per il viso che io utilizzo tutto il resto le maschere purtroppo appunto non le uso mai perché questo è comodissimo e offre un trattamento viso in una frazione del tempo rispetto alle altre maschere mi chiedete sempre informazioni riguardo la tecnologia dei dispositivi foreo questo in particolare ha la hyper infusion technology è per questo che questi dispositivi hanno un costo diciamo abbastanza alto il fatto che sono anche dei veri e propri gioielli di tecnologia unici al mondo quindi è per questo che è anche giustificato il prezzo un po' più alto questo combina calore e freddo alle pulsazioni t-sonic praticamente permette l'assorbimento del prodotto della maschera fino agli strati più profondi della pelle cosa che non si riesce a fare con le maschere quelle normali che andiamo ad appoggiare sulla pelle del viso per questo che con UFO è possibile insomma trasformare un trattamento per il viso di 20 minuti come può essere una maschera normale ad un trattamento da 90 secondi perché con questa una maschera per il viso penetra in profondità e ha un risultato molto più alto e molto diciamo migliore rispetto alle altre maschere proprio perché appunto va in profondità in soli 90 secondi quindi la faccio super super velocemente questa è la maschera che vado ad utilizzare oggi si chiama Make My Day e contiene red algae quindi alga rossa e acido ialuronico che come sapete è super importante per le rughe ed è un ottimo anti-age eccolo qui adesso UFO è pronto all'uso la nostra maschera è ben posizionata adesso mi basta andare sulla mia Foreo app dal cellulare inizio My UFO Make My Day e iniziamo con la maschera da giorno adesso scannerizziamo il codice a barre dalla scatola l'app mi dice di inserire la maschera nel mio dispositivo fatto start e possiamo iniziare il trattamento questa è la versione anti-aging quella con la luce rossa effettivamente è caldo e questo fa sì che il prodotto vada ad assorbirsi nella pelle praticamente istantaneamente ok il dispositivo è passato alla luce verde che è invece brightening quindi ha un effetto illuminante sulla pelle e riesco già a sentire che il calore sta variando e con questi dispositivi è una figata perché praticamente si autoregolano da soli ok passati i 90 secondi la mia pelle è completamente perfettamente idratata noterete che non mi crea arrossamenti né niente del genere quindi è perfettamente indicato anche per le pelli più sensibili come la mia perché non mi lascia mai 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 nessun segno nonostante il calore io ero preoccupata inizialmente invece è assolutamente un dispositivo super 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 sicuro anche per le pelli più sensibili e sfigatelle per malose come la mia quindi fatto passati i 90 secondi la maschera è fatta adesso lascio semplicemente che la pelle respiri ancora un po' e poi posso passare direttamente al trucco insomma quindi a stendere soltanto la crema occhi e poi come idratazione siamo a posto ok ragazzi io sono pronta qua c'è anche mio papà tra l'altro ciao papà ciao un attimino volevo farvi vedere qua c'è anche Gatto Denver sempre presente volevo farvi vedere l'outfit ho questo baglioncino di Stradivarius che è molto caldo ed è in ciniglia se non sbaglio il teddy coat bianco che ho preso da Naked Fashion scritto N-A-K-D sì Gatto Denver i pantaloni in similpelle che ho preso da Only i soliti boots scarponcini di Asos e oggi come baby come le chiamo io come borsa ho la boy bag nera di Chanel ciao Gatto Denver ci vediamo dopo ciao Gatto Denver ciao ciao super pezzo di pizza margherita ragazzi buon appetito buonasera gatti buonasera gatti sono tornata a casa sono tornata a casa la tastellina buonasera 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 GagioNember tornata a casa ragazzi fuori casa non ho filmato nulla perdonatemi comunque adesso la prima cosa che devo fare è sistemare le unghie che sono veramente imbarazzanti quindi mi vergogno vado a sistemare queste unghie e poi bisogna dare come ben sapete la sera la medicina Gatto Denver che nel frattempo volevo aggiornarvi perché sto ricevendo un sacco di domande su Gatto Denver e volevo rassicurarvi che Gatto Denver sta bene non è più successo non ho più trovato appunto sangue nulla quindi è bravissimo perché appunto ogni sera mangia tutti quei fermenti lattici che deve prendere quindi sta andando tutto benissimo speriamo che continui così insomma ragazzi continuate a mandare energia positiva grazie ragazzi stavo guardando la mia base in questo momento sono tornata a casa mi sono specchiata e ho visto che sulla zona T il fondotinta se riesco a parlare il fondotinta si sta praticamente sciogliendo anche sul naso mi devo essere toccata il naso e l'ho tolto completamente e anche sulla fronte e sul mento in realtà si sta sciogliendo non sta tenendo benissimo invece sulle guance è qui in questa zona è perfetto e oggi ho usato per la prima volta il My Skin But Better il fondotinta di Mesauda Milano e in realtà l'ho usato ieri per la prima volta ma non l'ho tenuto addosso molto a lungo oggi invece lo sto testando per parecchie ore e secondo me sulla zona T non si è comportato tanto bene sulle guance invece è perfetto incredibile quindi secondo me va bene se avete la pelle normale o secca è fantastico perché ti dà un effetto naturale che è pazzesco quindi fatemi sapere se l'avete provato questo fondotinta come vi siete trovati e ditemi anche che tipologia di pelle avete perché voglio capire se sono l'unica che con questo fondotinta appunto nella zona T praticamente esce un disastro perché dovrebbe essere per tutti i tipi di pelle quindi sono curiosa peccato peccato perché anche come colore avevo trovato un match perfetto invece mi sa che posso usarlo in qualche occasione ma se devo tenerlo addosso troppo a lungo forse è meglio evitare finalmente ragazzi ho fatto la manicure manine a posto sempre solito nude io ovviamente ragazzi che cosa vi devo dire mi piace troppo oh erano terribili prima sono super contenta ecco fatta la manicure ragazzi che ne dite vabbè io sempre solito nude naturalmente ma cosa posso dirvi mi piace troppo mi piace troppo e poi questo è una tonalità rosata ve lo faccio anche vedere ed è sempre lo stesso il bubble bath questo rosa nude che è semi trasparente io in realtà faccio due passate in modo che sia un pochino più pigmentato quindi diventa un pochino più rosato poi ragazzi tra l'altro vabbè passiamo da un argomento all'altro veramente dalle unghie alle cose più serie ma stavo guardando scrollando instagram leggendo eccetera e mi è capitato questo video chieda mai più a una donna che è stata assoprata come era vestita lei quella notte che non si chieda mai più noi non vogliamo più avere paura non vogliamo più essere vittime non posso mettervi tutto il video per intero perché non vorrei ci fosse il copyright eccetera eccetera quindi andatevelo a vedere o se avete visto la puntata insomma di Sanremo sicuramente avrete sentito il discorso mi è colpito un sacco questo discorso e visto che il mio canale è frequentato visualizzato per praticamente il 90% da donne vorrei vorrei soffermarmi un po' su questo e più che altro aprire un ragionamento con voi anche nei commenti eccetera viste anche le notizie proprio ultimamente ho sentito che in sette giorni sono state uccise sei donne in Italia negli ultimi sette giorni o negli ultimi sei giorni sono state uccise sei donne insomma dei numeri una cosa veramente impensabile e sentendo anche questo discorso di questa cantante che appunto mi ha colpito tantissimo e sono fortemente convinta che si debba parlarne e che sia molto molto importante portare l'attenzione su questo tema proprio perché in Italia sembra essere preoccupante e si riesce a capire quanto ci sia veramente bisogno di parlarne e volevo appunto aprire un ragionamento con voi sul perché noi donne secondo voi sopportiamo così tanto è un ragionamento secondo me interessante fatemi sapere nei commenti i vostri pensieri se avete sentito questo discorso non mi ricordo il nome della cantante l'avrete visto scritto adesso ve lo ridico Rula Jebril non so pronunciare il suo nome quindi perdonatemi non ho visto la puntata ho visto solo questo spezzone quindi non l'ho mai sentito pronunciare correggetemi comunque fatemi sapere se avete sentito questo discorso se ha colpito anche voi che cosa pensate si debba dire che pensate anche voi che sia importante parlarne pensate che appunto si possa agire se sì come e quindi ogni tanto mi piace parlare magari di qualche argomento più serio che mi balza nella mente anche su un canale di trucco moda lifestyle eccetera che vuole essere molto frivolo per farvi passare quella mezz'oretta in allegria in compagnia mi piace ogni tanto anche appunto parlare magari di argomenti un pochino più seri proprio perché sono molto importanti quindi nel frattempo i gattoni dormono ragazzi ma Denver adesso deve prendere la sua bustina amore mio andiamo a prendere la bustina amore mio ah ragazzi una cosa una cosa devo farvi vedere mi è arrivata per un video molto speciale che se la metto a fuoco grazie mi è arrivata per un video molto speciale che probabilmente magari credo vedendola riuscirete anche a capire di quale tipologia di quale tipologia sto parlando questa è una salsa di soia completamente trasparente ragazzi non l'avevo mai vista l'ho ordinata non è stata nemmeno tanto facile da reperire voglio assolutamente assaggiarla lo faremo insieme questo posso anticiparvelo però fatemi sapere se voi ne avevate mai vista una cioè io sono stata in giappone ma non l'avevo mai vista hanno la stessa salsa di soia che abbiamo noi e invece questa è completamente trasparente nel frattempo denver sta impazzendo quindi devo assolutamente dargli la sua bustina si amore mio ecco qua per gatto denver la bustina al pollo queste sono al pollo l'altra volta avevo fatto vedere quelle al latte queste sono al pollo ma piacciono molto ad entrambi vabbè gattastellina mangia tutto per denver appunto con i suoi fermenti lattici per gattastellina senza ma glieli darò al allo stesso momento perché altrimenti se la litigano quindi questo per gatto denver e questo per gattastellina ok no vabbè un'altra cosa ragazzi oggi è assurdo mi sveglio mi arriva una mail cioè mi sveglio trovo una mail in cui netflix mi comunica che hanno modificato la mail e quindi non posso più accedere con la mia solita email al mio account e quindi sono andata tipo un po' del panico poi c'era scritto se questa email se non hai richiesto tu il cambio della tua email contattaci ok li ho contattati nel servizio clienti sono stati gentilissimi ma hanno risposto subito veramente un'attesa di 30 secondi nemmeno cioè mai capitato alla fine mi ha detto sì il signore è simpaticissimo questi farabutti lo fanno per guardare netflix gratis ma non non si preoccupi adesso risolviamo è stato carinissimo insomma alla fine mi ha aiutato ho ri reimpostato la password ha aggiunto nuovi metodi nuove opzioni cioè ho aggiunto il numero di cellulare eccetera 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 però voglio dire come fanno cioè come fanno a hackerarti cioè a rubarti la password o cioè non lo so perché io non accedo mai a reti pubbliche dal cellulare non riesco a capire è veramente bizzarra questa cosa non lo so mi sono andata completamente nel panico poi quando mi ha risposto questo signore molto cordiale e gentile mi sono detta ok allora evidentemente sanno come fare risolviamo ok mi ha detto subito non ti preoccupare risolviamo questi farabutti mi ha fatto un sacco ridere questa parola così e quindi poi mi sono mi sono tranquillizzata però inizialmente mi sono detta cavolo infatti ho provato ad accedere a netflix sia dall'app dal cellulare che dal computer ed effettivamente mi diceva che l'email non era corretta quindi non potevo più accedere manco al mio account quindi mi sono detto ok l'ho perso cioè ormai ok pagherò per sempre a dei farabutti netflix per tutta la mia vita invece no poi sono riuscita siamo riuscite a risolvere molto in fretta per fortuna però ragazzi ma è successa anche a voi sta cosa capitano solo a me queste cose cioè vi prego fatemi sapere ditemi se sono l'unica perché il signore mi è sembrato abbastanza abituato a questa procedura quindi fatemi sapere se è capitato anche a qualcun altro o se invece no e sono tipo l'unica io grazie ho appena filmato delle storie e un post con gatto denver perché ragazzi vi devo dire che gatto denver è stato scelto nuovamente da un nuovo brand da amazon in questo caso per fare da star alla loro campagna su queste crocchette che tra l'altro denver è impazzito ce ne mangiate due quintali quindi sono molto contenta per questa nuova apparizione da star di gatto denver per il fatto che tutti i brand chiedono di lui vabbè la mia base ormai ragazzi don't judge comunque è cioè mi fa troppo troppo ridere sta cosa che adesso gatto denver ha il suo canale instagram ah se ancora non lo seguite ve lo metterò è gatto denver real con una sola t gatto denver mi chiedete perché gatto perché in triestino si dice gatto e io lo chiamo gatto denver ragazzi non c'è un'altra ragione che mi dimentico di metterci la doppia t no è gatto denver fa troppo ridere il fatto che lui sia la vera star e che adesso ormai collabori direttamente gatto denver con i brand vero amore mio hai mangiato troppo lo so amore mio quando è stanco mi agola senza suono fa solo potesce proprio una specie di cigolio ma è raro vabbè ragazzi adesso io in realtà devo salutarvi perché devo mettermi al montaggio di questo video video che sto filmando in questo momento devo mettermi al montaggio perché poi domani parto per milano quindi teoricamente dovrei montarlo domani però visto che sono in viaggio e non mi va di portarmi dietro il computer voglio stare comoda leggera con la borsetta mi metterò piuttosto al montaggio adesso quindi piuttosto dormo un pochino di meno ma almeno domani sono comoda e non devo andare in treno con appunto il computer eccetera e poi vado a nanna biglietti acquistati per domani quindi ragazzi buonanotte vi mando davvero un bacio grandissimo non so come sia stato questo vlog non so mai come sono i miei vlog le mie giornate sono così e io cerco di filmare quanto più possibile quello che posso non sempre posso tirare fuori la videocamera e filmare l'altra gente però spero appunto che vi sia piaciuto mi dite sempre che i vlog vi tengono compagnia quindi mi fa piacere io vi mando davvero adesso un bacio grandissimo buon weekend noi ci vediamo il lunedì con un nuovo video tanti baci grazie a tutti